Se prima della pandemia, fino a due anni fa, c'era una forte crisi dell'edilizia, oggi terminata la pandemia c'è stata sotto questo punto di vista un rimbalzo talmente forte, grazie anche delle normative, il 110% eccetera, che porta ad una fase del tutto inaspettata. Oggi non si trovano le imprese per poter mettere su in cantieri, i comuni non riescono a dare le risposte alle tante domande che gli arrivano perché non hanno i tecnici comunali, dopo dieci anni di crisi i tecnici comunali sono diminuiti perché non ce n'era bisogno e oggi invece mancano, un po' come gli anestesisti nelle terapie intensive per capirci. Chi l'avrebbe mai detto che oggi una ditta sarebbe stata in difficoltà a impiantare un cantiere perché non trovano le armature da poter mettere sui cantieri? Una fase completamente inedita ed in questa fase completamente inedita noi dobbiamo fare di tutto per interpretare nel miglior modo possibile le esigenze di prospettiva e consentire uno sviluppo armonioso, utile, sano di questo settore nei prossimi anni. Due, abbiamo in questo momento l'esigenza fortissima di sburocratizzare al massimo le attività legate alle pratiche edilizie, alla rigenerazione urbana, al risanamento dei nostri quartieri, alle nuove costruzioni quando si pongono le costruzioni e soprattutto all'efficientamento energetico delle nostre costruzioni e quindi alla loro ristrutturazione. Su questo siamo già intervenuti con la legge 22 che abbiamo approvato in consiglio regionale pochissimi mesi fa e che consente alle ditte e quindi ai proprietari di poter abbattere e rifare interamente i propri fabbricati facendoli, considerandoli semplici e ristrutturazione, quindi potendo accedere al piano casa, potendo accedere al 110%, potendo accedere al pagamento del 50% di onere di urbanizzazione e soprattutto a deficientare tante case vecchie, tanti condomini vecchi che in questo modo vedono di nuovo nuova vita. Adesso inizia la grande sfida. Dopo 29 anni, dopo tutti questi cambiamenti, dopo tutte queste fasi, oggi anche del tutto inedite, occorre mettere in mano una nuova legge urbanistica. E se una nuova legge urbanistica ha la presunzione di avere la ricetta in mano per come deve essere fatta, per come deve essere portata avanti, per come deve essere pensata, sicuramente faremmo un grosso buco nell'acqua.